Uno sfortunato otto gol di Altobelli, la rete di Gnambe condannano Lavastesi alla sconfitta contro il Castelfidardo e Biancorossi non basta il penalty procurato da Franzese trasformato da Martigniello per evitare il KO casalingo all'Aragona. Con le immagini di Edoardo D'Addario passiamo alla cronaca della gara. Nei Biancorossi, mister D'Addario conferma per intero la squadra che domenica ha battuto il notaresco per 2-0. Il tecnico sceglie dunque un 4-4-2, ancora fuori Martinez. Negli ospiti i tre ex di giornata, Mataloni, Corcione e Giampaolo vanno subito in campo con Lauro che sceglie un 4-3-3. Pronti partenza via ed è subito pericoloso il Castelfidardo al minuto 2 Giampaolo con un tocco morbido prova a sorprendere Di Rienzio che in uscita ci mette una pezza. All'ottavo passano gli ospiti, corner dalla sinistra frittata della difesa di casa che con una deviazione involontaria di Altobelli infila la propria porta. Al diciottesimo finalmente si vede Lavastese dalle parti di Simone con una punizione procurata dalle noci e calciata con una fucilata a lato da Obodo. Al ventisettesimo ancora pericolosa la formazione di casa sempre da palla inattiva. Obodo pennella e Di Prisco spaglia la porta, colpisce di testa. La palla finisce sul palo con Simone spettatore, questo il replay. Al quarantesimo i marchigiani vanno alla conclusione con Mataloni, tutto facile per Di Rienzo. Al quarantaquattresimo occasionissima per il Castelfidardo. Giampaolo dalla distanza prende la mira e calcia, palla sul palo. Ecco il rallenti della conclusione. Dopo un minuto si va a riposo sull'1-0 per la formazione di Lauro. Nella ripresa subito doccia fredda per i locali. Al secondo Giampaolo viene toccato da Di Rienzo in uscita. Il direttore di gara non ha dubbi assegna il penalty, questo il contatto. Sul dischetto va lo stesso giocatore Maglia numero 10 che si lascia ipnotizzare dall'estremo bianco-rosso che respinge con i piedi. Magnambè arriva di gran carriera e deposita in rete per il 2-0. All'ottavo Lavastese accorcia le distanze con Franzese ma il gol viene annullato per fuorigioco. Ecco il replay al nono il numero 20 in corna con la palla che finisce sulla traversa. L'azione continua ma si salva Simone. Al ventottesimo Franzese viene toccato in aria. Il signor Totaro assegna il penalty, questo il contatto. Sul dischetto va Martiniello che fa 2-1 e accorcia le distanze. Al trentaquattresimo ancora un episodio da Moviola. Magnambè prende il secondo giallo, questa volta per simulazione viene espulso dal direttore di gara. L'ultima occasione dei locali arriva al quarantaseiesimo con un tiro cross di Solimeno che per poco non sorprende Simone. Dopo cinque minuti di recupero la partita va in archivio sul 2-1 per il Castelfidardo che agguanta tre punti e vola a quota 41. Lavastese si ferma dopo due vittorie e quattro risultati utili consecutivi.